ben tornati a casa cari amici della zona oscura e ben arrivati a tutti coloro che mettono il loro nasino oltre confine per la prima volta sappiate che qui settimanalmente parliamo di casi di una canera venuti un po qui e un po là oggi non fa eccezione quindi allacciate le cinture pronti per partire destinazione darien piccola città poco fuori chicago è popolata da 22 mila anime indovinate un po è tra le 15 località migliori in cui vivere in illinois non so se la classifica è aggiornata e tiene conto dei fatti che sto per raccontarvi penso di sì comunque perché stiamo per fare un salto temporale di quasi 14 anni 2 marzo 2010 il silenzio notturno all'interno dell'abitazione della famiglia kramer viene bruscamente interrotto da un tonfo assordante da quel momento in poi altri fragori esplosivi si susseguiranno all'interno della casa alle ore 3 10 il dipartimento di polizia di darien riceve una chiamata da una donna di 25 anni rinchiusa in un armadio nel panico spiega l'operatrice che qualcuno è entrato in casa e ha iniziato a sparare si tratta di angela kramer figlia di jeffrey e lory sposati dal 1980 e molto conosciuti in zona lui dirigeva una compagnia di riparazione auto ed entrambi erano ben voluti da tutto il vicinato mai una questione mai problemi con la legge i coniugi kramer avevano tre figli angela appunto e altri due figli maschi anthony il maggiore e michael il più giovane tutti quanti erano all'interno dell'abitazione quella notte la polizia impiegò pochi minuti per giungere sul posto dal quale era arrivata quella disperata richiesta d'aiuto una delle prime cose che videro fu un uomo che cercava di uscire arrampicandosi verso la finestra del seminterrato si trattava di anthony kramer il fratello maggiore di angela che dormiva lì e come sua sorella aveva evidentemente sentito il delirio scatenatosi in casa lui e angela che venne ritrovata anch'essa viva ancora nascosta nell'armadio furono gli unici due sopravvissuti quella notte scioccati e traumatizzati da un evento tanto imprevedibile quanto violento jeffrey il padre era disteso sul pavimento del soggiorno non molto lontano dall'entrata lori invece si trovava sulle scale che portavano al piano di sopra michael il più giovane dei loro figli si trovava invece nei pressi del garage forse raggiunto dall'assalitore in un tentativo di fuga tutti e tre erano stati raggiunti da diversi colpi di pistola ma uno quello finale era stato esploso alla testa per ognuno di loro chiunque avesse compiuto quel massacro voleva essere certo che le persone raggiunte dagli spari morissero un'esecuzione in piena regola di colui che l'aveva messa in atto comunque non c'erano tracce il killer se n'era già andato gli agenti come detto recuperarono angela al piano di sopra e mentre l'accompagnarono fuori le chiesero di mettersi le mani sugli occhi per non vedere l'orrore dei corpi privi di vita dei suoi genitori e di suo fratello mentre sigillavano la scena del crimine una ragazza arrivò sul posto anche lei apparentemente traumatizzata disse che si trovava all'interno della casa all'inizio della sparatoria si trattava della fidanzata di michael una delle persone uccise stava dormendo sul divano al momento dell'irruzione ed era stata l'unica a riuscire a scappare fuori prima che la sparatoria iniziasse anche l'unica a poter dare una descrizione dell'assalitore piuttosto inutile a dire il vero un uomo alto circa un metro ottanta vestito di nero dalla testa ai piedi era entrato rompendo una finestra con un martello che era rimasto all'interno dell'abitazione la dinamica quindi fu più o meno la seguente il killer entrò attraverso la finestra ed ebbe una colluttazione con michael mentre la sua ragazza riuscì a fuggire il ragazzo ebbe la peggio e l'uomo gli sparò diverse volte i genitori di michael jeff e lori sentiti gli spari scesero dal piano di sopra dove c'era la loro camera da letto l'assassino sparò anche a loro numerose volte poi se ne andò in quel momento non fu chiaro se avesse raggiunto il suo obiettivo oppure non abbia avuto modo e tempo di raggiungere ed eliminare anche gli altri due componenti della famiglia kramer non viene prelevato nulla in casa e gli unici indizi del passaggio del killer furono il martello trovato di fianco alla finestra rotta i numerevoli bossoli calibro 40 e delle impronte lasciate sulla neve che si allontanavano dall'abitazione ascoltato dalla polizia anthony non riuscì a pensare a nessuno che potesse avercela con la sua famiglia tanto da compiere un massacro del genere angela invece ebbe qualcosa da dire non che pensasse qualcuno potesse arrivare a tanto ma una persona che ce l'aveva con la loro famiglia c'era si trattava del padre di suo figlio dal quale si era separata da pochi mesi i motivi per i quali lo aveva lasciato aveva problemi con la gestione della rabbia e non andava d'accordo con la sua famiglia insomma un paio di grossi campanelli d'allarme ed una freccia rossa che puntava dritta johnny borizov questo il suo nome in merito ai tragici eventi di quella notte johnny era un amico dell'ex fidanzato di angela che purtroppo era tragicamente morto qualche anno prima in un incidente con la moto i due si erano poi messi insieme ed avevano avuto un bambino erano rimasti una coppia per circa due anni fino a natale del 2009 dopo la nascita del piccolo johnny era diventato molto possessivo e questo aveva creato dei problemi anche con la famiglia della donna che non lo vedeva di buon occhio era arrivato anche a minacciare jeff kramer con un coltello e litigare con la moglie lori ad una festa di compleanno le questioni tra loro riguardavano ovviamente angela ma anche loro figlio visto che c'erano in ballo diverse questioni per l'affidamento ed infatti quella sera il bambino non era in casa visto che doveva stare con il padre cosa curiosa fu lui stesso a chiamare la polizia prima ancora che loro andassero da lui disse di aver saputo che c'era stata un'irruzione a casa della sua ex fidanzata e voleva sapere come stava quando lo interrogarono ovviamente si rese conto di essere il principale sospettato cosa che comunque credo sapesse già disse che non aveva nulla a che vedere con quella storia ed il suo alibi era effettivamente di ferro le telecamere di un casino lo avevano ripreso fino alle 4 del mattino e la sparatoria c'era stata alle 3 di certo non era stato lui ad uccidere i kramer ma si sa che un alibi troppo forte a volte può rendere la polizia ancor più sospettosa analizzarono il suo telefono e trovarono qualcosa di davvero interessante c'erano diverse telefonate quella notte con uno specifico numero una sim usa e getta ma il tizio che la possedeva aveva anche lasciato un messaggio vocale dicendo di avere la sensazione di essere inseguito o cose del genere il tale disse di chiamarsi jake e un'altra telefonata la polizia si agganciò a questo nome e questa storia un ragazzo chiamò dicendo che il suo coinquilino si comportava in modo molto strano paranoico diceva che qualcuno lo stava seguendo e vedeva poliziotti in ogni dove disse che forse era l'ultima volta che parlavano il soggetto in questione si chiamava jacob nodarsi e tra jacob e jake non c'è molta differenza il coinquilino disse che soffriva anche di depressione che se mai fosse stato davvero coinvolto in quella sparatoria non ce l'avrebbe fatta a conviverci senza impazzire cosa che a quanto pare stava avvenendo un'altra cosa che disse fu che jacob e michael kramer erano amici o almeno lo erano stati fino a qualche tempo prima poi avevano litigato in quanto jacob gli aveva mentito in merito la sua amicizia con un'altra persona indovinate un po chi ovviamente johnny borizov che michael odiava per le note ragioni jacob nodarsi aveva avuto un'infanzia difficile e sofferto di depressione sin da giovanissima età non si era fatto mancare droga e alcol ed era stato proprio in quell'ambito che aveva conosciuto johnny borizov che gli aveva venduto della droga qualche tempo prima johnny gli aveva anche mentito dicendogli di far parte di un importante cartello insomma di essere un pezzo grosso in quell'ambiente non so se per vantarsi o solo perché aveva già in mente un piano comunque sia indagando su jacob nodarsi la polizia scoprì che appena due giorni prima dell'omicidio aveva acquistato una pistola calibro 40 che ovviamente non poteva essere solo una combinazione nonostante non vi fosse traccia di lui risalirono alla sua posizione grazie a una chiamata che fece al 911 era talmente paranoico che chiese se da quelle parti c'erano degli agenti sotto copertura in quanto vedeva luci blu ovunque era diretto in florida dove vivevano i suoi genitori e fu proprio di fronte casa loro che venne arrestato mentre dormiva in auto durante l'interrogatorio disse di avere paura che era stato lui ad uccidere i tre kramer ma non aveva scelta temeva per la vita dei suoi familiari gli investigatori avevano già capito ovviamente chi l'avesse mandato ad uccidere la famiglia kramer ma dovevano sentirlo dalla sua bocca dopo avergli garantito che nulla sarebbe successo alla sua famiglia jacob ammise che era stato johnny borizov a commissionarli quei delitti jacob aveva paura di lui in quanto aveva davvero creduto che fosse un pezzo grosso di qualche cartello di droga o roba del genere nulla di vero ovviamente ma quando gli disse che angela kramer doveva morire con lei tutta la sua famiglia perché avrebbero esposto l'esistenza di quel cartello durante le successive udienze per la custodia del figlio jacob decisamente poco stabile e molto manipolabile pensò che non vi fosse altra scelta e accettò di essere l'esecutore materiale temeva che se non l'avesse fatto la sua famiglia l'avrebbe pagata cara johnny gli disse che quella stessa notte lui avrebbe provveduto ad eliminare altri pericolosi pezzi grossi del mondo della droga insomma un castello di menzogne alle quali evidentemente jacob credette in realtà johnny era solo un piccolo spacciatore abbastanza stupido da credere che quel piano avrebbe retto e che jacob con tutti i suoi problemi non sarebbe crollato subito dopo l'esecuzione del piano entrambi vennero arrestati per triplice omicidio e cospirazione vennero ritenuti abbastanza rintronati da essere messi in due celle vicine chissà mai che parlassero di qualcosa che sarebbe stato utile a confermare le accuse visto che ovviamente johnny borizov si dichiarò innocente ed estraneo a tutto ed in effetti fu così l'uomo continuò la sua messa in scena con il complice dicendogli che non doveva parlare altrimenti gli altri membri del cartello avrebbero ucciso la sua famiglia a quel punto pure jacob non gli credeva più ma queste parole confermare una grande linea la storia che lui aveva raccontato alla polizia jacob nodarsi si dichiarò colpevole nel 2011 e fu il principale testimone nel processo contro johnny borizov che si tenne nel 2013 nonostante i tentativi della difesa di far ricadere su di lui l'intera responsabilità degli omicidi l'esistenza di un piano e una cospirazione risultava ormai troppo chiara per non portare all'incriminazione anche della mente si fa per dire di tutta l'operazione johnny borizov venne condannato al carcere a vita senza la possibilità di uscire un giorno in regime di semilibertà per quanto riguarda jacob nodarsi era stato in precedenza condannato stante le sue ammissioni di colpa a 75 anni di carcere da quanto ho capito dovrà scontarli tutti alcuni sono ancora oggi convinti dell'innocenza di johnny familiari per lo più ne hanno chiesto il rilascio in quanto tormentato da seri problemi di salute legati al diabete e a patologie al fegato nel dicembre del 2021 la madre disse che gli rimanevano 90 giorni da vivere ma siamo a fine 2023 ed è ancora tra noi chissà forse il carcere gli fa bene alla salute voi che dite un abbraccio letale a tutti voi cari viandanti oscuri e ben ritrovati in zona anche oggi la vostra settimanale dose di true crime è pronta per essere cotta e cucinata come una bistecca sulla griglia quindi mettetevi comodi ed alzate il volume se indossate cuffie auricolari invece abbassatelo altrimenti prima o poi diventerete sordi e sarebbe un peccato sappiamo che casi di omicidio più interessanti tra virgolette ovviamente insomma quelli che fanno più notizia tendono a riguardare le vittime veramente innocenti persone che si trovano nel posto sbagliato al momento sbagliato oppure normalissimi esseri umani che qualcuno decide di eliminare per le ragioni più stupide o abiette parte dello shock in questi casi deriva dalla sensazione che per quanto sicura possa essere la città in cui si vive o il quartiere in cui si risiede c'è sempre la possibilità di essere vittima di un crimine ferrato in effetti è relativamente raro anche nelle città con alti tassi di criminalità che vengano uccise persone non coinvolti in attività criminali mi rendo conto che ascoltando i telegiornali sembra che ad esempio una donna che esce di casa debba lanciare una moneta per sapere se tornerà a casa viva oppure no ma la realtà è che proprio l'enfasi e lo shock relativo a questi tragici eventi tende a farli ritenere più ricorrenti di quanto in realtà non siano quando invece si sente parlare di criminali e di persone appartenenti ai gradini più bassi della società che vengono uccise la reazione spesso nel migliore dei casi l'indifferenza capita anche che la morte di queste persone non venga neppure presa in considerazione da chi ogni giorno ci tempesta di notizie relative a morti e tragedie la filosofia di fondo è piuttosto elementare se vogliamo la società deve proteggere i cittadini per bene quelli rispettosi della legge ma la realtà è che la legge dovrebbe proteggere tutti i membri della società indipendentemente dalla situazione attuale di una persona ed ogni vita dovrebbe avere un valore quella di un infermiera e quella di una prostituta quella di un avvocato e quella di un senza tetto che poi spesso non si sia portati a ragionare così è un altro discorso il caso che vi illustrerò oggi non parla dell'inopinato omicidio della ragazza della porta accanto di una moglie che ha deciso di cambiare vita o di un bravo ragazzo picchiato a morte in discoteca per una parola uno sguardo fuori posto la storia odierna parla invece di una di quelle persone invisibili la cui morte non interesserebbe di certo a barbara d'urso e compagnia siamo in florida intorno alle 23 del 21 maggio 2005 i residenti della ronald mcdonald house di san petersburg vengono svegliati da rumori e grida fragorose spesso nelle grandi città americane questi suoni passano inosservati anzi forse è il silenzio a dover preoccupare maggiormente ma a causa dell'estrema vicinanza dalla quale provengono le urla c'è il timore che stia davvero accadendo qualcosa di terribile e un residente della ronald mcdonald chiamò la polizia gli agenti intervennero prontamente sul luogo gli ed erano un'occhiata in giro bussarono a qualche porta ma dopo aver constatato che non c'erano segni di aggressione o di altre attività criminali se ne andarono e passarono ad altre chiamate il giorno successivo però il corpo di sarah lynn wineski prostituta 49 anni venne scoperto sotto una terrazza della ronald mcdonald house la donna era stata violentata e strangolata a morte ma a parte il testimone che aveva udito le grida la notte precedente che aveva chiamato la polizia non c'era nessun altro che potesse fornire informazioni utili in merito all'omicidio la polizia sospettò subito che wineski senza tetto e con alcuni precedenti penali legati soprattutto alla droga fosse stata vittima di uno stupartore seriale che operava nella zona un controllo dei precedenti della donna rivelò che era nuova nella baia di tampa e conosceva poche persone quindi vi fu la presunzione che non conoscesse neppure il suo assassino si sa che gli omicidi casuali se così possiamo definirli sono i più difficili da risolvere visto che non c'è alcuna rete relazionale da seguire per giungere a possibili e spesso probabili colpevoli ma la polizia di san petersburg disponeva di un'importante prova lasciata dall'assassino cosa che molto spesso non succede il suo dna c'è però bisogno di un sospetto a cui collegare le tracce di dna rinvenute sul luogo del crimine cosa che avrebbe potuto richiedere anni o che addirittura non sarebbe mai avvenuta come dicevo nell'introduzione di questa storia a volte è facile cancellare e dimenticare le vittime di reati come sarah wineski tendiamo a prenderla più la leggera quando vittima dell'omicidio è un mezzo criminale un senza tetto o uno di coloro che sembrano essere così distanti da noi e quando diventano vittime di solito se ne parla meno e a volte ha fatto l'omicidio di sarah wineski sarebbe stato probabilmente ignorato anche dalla stampa locale di tampa bay se non fosse stato per il luogo in cui è stato commesso un omicidio avvenuto alla ronald mcdonald house luogo dove soggiornano i familiari di bambini in cura per gravi malattie ha sicuramente attirato l'attenzione su san petersburg quando venne uccisa sarah wineski aveva già toccato il fondo da tempo la sua vita era andata fuori controllo a causa di una serie di relazioni sbagliate uso di droghe e piccole attività criminali ma le cose non erano sempre andate così e un tempo la vita della donna appariva molto diversa da ciò che era diventata sarah era madre di quattro figli ed aveva anche quattro nipoti la sua famiglia le voleva ancora bene nonostante tutti i demoni che si erano impossessati della sua esistenza ma a volte è molto difficile aiutare le persone che non vogliono essere aiutate o che non tendono una mano abbiamo dei ricordi bellissimi di lei disse kendis chessman una delle sue figlie e il suo assassino ha rubato la speranza che tutti noi portavamo nel cuore di avere la possibilità di creare altri ricordi con lei un giorno sarah wineski era arrivata da poco nella baia di tampa nel tentativo di ricominciare da capo ma non avendo soldi o contatti nella zona si era subito data le sue vecchie abitudini droga e prostituzione vendere il proprio corpo era un modo facile e veloce per sarah di mettere da parte dei soldi che le servivano però per la sua dipendenza dalla droga che indirettamente è stata la causa della sua fine chi si occupava del caso comunque andò fino in fondo a prescindere dalla vita di sarah wineski dai suoi vizi e dai suoi sbagli c'era un assassino in libertà che doveva assolutamente essere consegnato alla giustizia i detectivi della omicidi del dipartimento di polizia di san petersburg erano impegnati a catturarlo come qualsiasi altro assassino e sapevano che il piccolo campione di dna prelevato dal corpo di sarah sarebbe stato probabilmente la chiave per sanarlo e assicurarlo alla giustizia fu ritenuto probabile che chiunque avesse commesso un crimine così terribile lo avesse già fatto in passato o lo avrebbe fatto di nuovo in futuro non una bella prospettiva certo ma significava che c'erano buone possibilità di catturarlo il campione di dna dell'assassino di sarah venne inserito nel sistema di indicizzazione combinata del dna detto codis e una volta fatto questo non si dovette fare altro che attendere un riscontro il database codis è stato creato da quando la procedura per l'identificazione del dna è diventata legge nel 1994 si tratta di un programma usato per lo più dall'fbi ma i campioni vengono prelevati dagli archivi di tutti gli stati dal governo federale e dal distretto della columbia all'inizio i campioni di riferimento erano solo quelli appartenenti a condannati per reati sessuali nei diversi stati ma nel corso degli anni il database è cresciuto fino a includere le persone condannate per ogni genere di reato in alcuni stati ne fanno parte anche solo persone accusate ogni singolo stato stabilisce i propri criteri per chi è tenuto a fornire campioni di dna ma nel 2006 tutti gli stati hanno aderito seppur con metodologie applicative differenti al sistema codis ed è stato proprio nel 2006 a circa un anno dai fatti che il dna ritrovato sul corpo di sarah vineschi è stato finalmente abbinato a un sospettato possiamo dire che per certi versi la vita di raymond samuels non era stata troppo dissimile da quella di sarah vineschi soffriva di una serie di problemi personali faceva uso di droghe era un senzatetto e si trovava nella zona di tampa bay da pochissimo tempo quando sarah venne uccisa la notte del 21 maggio 2005 ma a differenza di sarah vineschi samuels scelse di sfogare la sua rabbia su un'altra persona il dna prelevato sul corpo della vittima venne indiscutibilmente abbinato a samuels non fu molto difficile individuarlo in quanto nel 2006 era stato rinchiuso nel carcere dell'ohio e condannato ad una pena piuttosto lunga per una violazione di domicilio con effrazione ai danni di una coppia di anziani quando raymond samuels entrò nel dipartimento di correzione dell'ohio subito dopo la condanna gli venne prelevato un campione di dna che poi fu inserito nel database codis il detective mike kovacev del dipartimento di polizia di san petersburg non aveva affatto rinunciato a scovare l'assassino di sarah vineschi e regolarmente si prendeva il tempo di inserire il dna dell'uomo sconosciuto prelevato dalla vittima nel database del codis per verificare se fossero emerse delle compatibilità un metodo per così dire comodo quando non si hanno piste da seguire certo se l'assassino della donna non avesse più commesso reati non sarebbe mai stato preso ma come dicevamo prima e come erano convinti gli inquirenti quando una persona commette un crimine del genere ci sono grandissime possibilità che abbia già dei precedenti o che tornerà delinquere in futuro e così fu alla fine del 2006 il campione venne associato a samuel's tuttavia si aspettarono ancora diversi anni per incriminarlo anche perché non c'era il rischio che scappasse da qualche parte c'erano ancora troppe domande a cui si doveva rispondere prima di poter formulare accuse formali in particolare se samuel's e vineschi si conoscessero dopo tutto la donna era una nota prostituta e il campione di dna prelevato dal suo corpo avrebbe potuto anche essere il risultato di un rapporto sessuale consensuale a pagamento kovacev e altri detective si recarono in oaio per interrogare samuel's ma il detenuto fece valere il suo diritto al quinto emendamento e si rifiutò di parlare kovacev era sicuro di aver individuato il suo om e tenne la famiglia uineschi costantemente aggiornata sul caso anche loro non misero fretta agli inquirenti essendo informati che il presunto sospetto si trovava già dietro le sbarre quindi non vi erano pericoli di fuga o reiterazione del reato i tecnici della scientifica eseguirono altri test sul dna recuperato dalla scena del crimine per assicurarsi di avere l'uomo giusto e cosa più importante riuscirono a trovare una corrispondenza con il dna prelevato da una cintura che si riteneva essere l'arma del delitto le operazioni andarono comunque per le lunghe e penso ci furono anche altri motivi che non sono noti fatto sta che samuel's venne accusato di omicidio di primo grado per la morte di sarah uineschi nel 2013 quindi a otto anni dai fatti da quel punto in poi ho avuto qualche difficoltà a trovare informazioni sulla vicenda so che nel 2017 quindi dopo quattro anni samuel's si dichiarò colpevole ma di omicidio di secondo grado non ho invece notizie in merito alla condanna ma considerando che stava scontando 29 anni per il precedente reato direi che non uscirà breve dal carcere ammesso che mai ne uscirà la famiglia di sarah uineschi si dimostrò comunque grata che kovacev e gli altri detective di san petersburg non si fossero dimenticati della loro congiunta nonostante il suo passato ed il fatto che un caso del genere potesse tranquillamente finire nella lunga lista degli omicidi risolti come famiglia non siamo qui a negare il suo percorso ma è importante per noi che la gente sappia che la sua vita non è stata uno spreco e che nessuno aveva il diritto di portargli alla via queste le parole di candice chessman una delle figlie di sarah uineschi ciao a tutti cari frequentatori della zona oscura anche oggi grazie al vostro abbonamento mensile in offerta speciale a 0 euro tondi tondi potrete assistere al racconto di un altro caso di true crime avvenuto da qualche parte del mondo dopo diversi casi italiani oggi faremo un viaggetto oltreoceano fino in colorado quindi allacciate le cinture e prendetevi un drink non necessariamente nell'ordine ah ovviamente dimenticavo il classico monito a chi si ritrova da queste parti per la prima volta non è una grave colpa ma vi consiglio di rimediare immediatamente cliccando il tasto di iscrizione e attivando la campanella delle notifiche nella zona oscura vengono settimanalmente pubblicati i casi di true crime e se la cosa vi interessa sono sicuro che non vorrete perdere i prossimi ma bando ai convenevoli dicevamo colorado nello specifico brumfield anno 2018 situata tra denver e boulder la piccola brumfield è una città piuttosto pittoresca con poco più di 70.000 abitanti tra questi c'era natalie bollinger nata il 24 febbraio del 1998 assieme alla sua gemella alicia figlia di rose ted bollinger sua madre era molto giovane quando la dia della luce aveva appena 19 anni nel periodo successivo alla nascita di natalie non si sa molto se non che sia stato particolarmente turbolento droga abuso di alcol problemi di vario genere tanto che rose ad un certo punto mollò tutto e tornò dai suoi genitori salvo tornare dalle sue figlie quando ted fu arrestato così la vita riassunse una sorta di normalità e le due ragazze crebbero insieme con un altro fratello che non so di chi fosse figlio nello specifico ma poco importa questa infanzia da quanto movimentata ebbe sicuramente un impatto su natalie e su alcune sue vicissitudini anche se per il resto la ragazza era considerata un tipo molto tranquillo che amava la natura gli animali e credeva che la gentilezza potesse risolvere tutti i problemi era anche una creativa una specie di artista se vogliamo le piaceva disegnare e fare tatuaggi terminate le superiori si iscrisse al college per diventare infermiera aveva piani abbastanza chiari per il futuro anche se diversi ostacoli si erano presentati di fronte a lei uno su tutti quando aveva 17 anni camminando per strada si imbatté in un senza tetto che stava semplicemente seduto sul marciapiede sembrava aver bisogno di aiuto mentre tutti lo ignoravano natalie decise di parlare con lui e dargli una mano come detto pensava che ogni persona meritasse gesti gentili e non le dispiaceva aiutare il prossimo parlò con lui lo aiutò per quanto nelle sue possibilità e i due divennero amici anche su facebook evidentemente quest'uomo non aveva una casa ma aveva un account sulla piattaforma si chiamava sean schwartz ed aveva il doppio degli anni di natalie purtroppo aveva anche qualche problema di testa e ben presto per lui la ragazza divenne un'ossessione ossessione che andò avanti per ben due anni durante i quali continuò a contattarla via facebook e non solo basti pensare che a un certo punto natalie si trasferì in virginia dove viveva la madre in quel periodo e lui la seguì ovviamente arrivò il momento in cui natalie smise di rispondergli cercando di tagliare ogni contatto ma la cosa non risultò affatto semplice lui continuava a scrivere messaggi anche a terzi nei quali parlava di lei non sempre in modo lusinghiero a un certo punto natalie riuscì anche ad ottenere un ordine restrittivo e il 13 dicembre del 2017 postò un lungo messaggio su facebook nel quale si rivolgeva tutti i suoi conoscenti scusandosi se anche loro erano stati coinvolti in quella storia costretti a leggere i messaggi deliranti di sean che come detto aveva problemi mentali insomma in un modo o nell'altro sembrava essersi messa alle spalle quella situazione nonostante l'uomo fosse ancora ossessionato da lei e avesse minacciato di togliersi la vita se non gli avesse più parlato poche settimane dopo aver postato quel messaggio su facebook a natale del 2017 natalie e il suo fidanzato joy avevano in programma di passare le festività con la famiglia di lei cercando finalmente un po di normalità e non pensando più a stalker psicopatici e compagnia le cose non andarono per il meglio purtroppo il 28 dicembre 2017 natalie era a casa da sola joy era fuori per lavoro e disse di averla contattata via messaggio alle 9 di mattina e poi verso le 13 tornò a casa verso le 15 e 30 cercò natalie ma non la trovò la ragazza non era in casa e questo tutto sommato poteva essere normale non lo era invece che il suo telefono fosse in camera da letto natalie come d'altronde moltissimi giovani non si staccava quasi mai dal suo cellulare joy chiamò immediatamente la polizia e ne denunciò la scomparsa ma non fu tanto la presenza del telefono in casa a farlo preoccupare quanto un'assenza quella della sua pistola una glock 9 mm che non si trovava dove lui l'aveva sempre custodita joy chiamò anche rose la madre di natalie per sapere se lei avesse delle informazioni utili la donna aveva ricevuto una chiamata della figlia alle 2 del pomeriggio ma null'altro sin dall'inizio sembrò un caso che si sarebbe risolto a breve in quanto tutto puntava in un'unica direzione che era ovviamente quella dello stalker che l'aveva tormentata e al quale era stato posto un ordine restrittivo quando la polizia ascoltò sean schwartz però le cose non andarono come avrebbero immaginato lui disse che era rimasto a casa di un suo amico tutto il giorno e che non si sarebbe mai avvicinato a lei proprio per via dell'ordine restrittivo che aveva ricevuto e che a quanto pare stava rispettando ciò che disse trovò anche conferma nelle parole dell'amico che lo ospitava sean sembrava davvero preoccupato per natalie e disse agli agenti che con lui stavano soltanto perdendo del tempo prezioso non avendo elementi concreti per trattenerlo sean venne rilasciato e pubblicò anche un video nel quale chiedeva a chiunque avesse informazioni su di lei di contattare la polizia di brunfield le speranze che la ragazza potesse essere ritrovata in vita però cessarono il giorno successivo alle 3 13 43 quando il suo cadavere venne ritrovato in un campo nella contea di adams a circa un'ora d'auto da brunfield divenne così un caso di omicidio natalie che aveva appena 19 anni era stata uccisa con un singolo colpo di pistola alla testa questo avrebbe poi determinato l'autopsia inoltre gli esami tossicologici dimostrarono come la ragazza avesse in circolo un quantitativo probabilmente letale di euroina i genitori della ragazza erano convinti che il colpevole fosse sean schwarz e la cosa non deve destare troppo stupore lui continuò a proclamarsi innocente e la polizia non riuscì a raccogliere elementi che lo riconducessero sulla scena del crimine lo arrestarono così per altri motivi o meglio lo misero sotto sorveglianza per 72 ore a causa dei suoi problemi mentali lui cercò di resistere all'arresto aggredendo un poliziotto il 10 gennaio fu però rilasciato e a parte la questione dell'aggressione a pubblico ufficiale alla quale avrebbe dovuto rispondere non gli fu mossa alcuna accusa per la scomparsa e la successiva morte di natalie bollinger ma se non era stato lui allora chi aveva ucciso la ragazza quel giorno possibile che sean avesse coperto perfettamente tutte le tracce ed elaborato un piano infallibile per eliminarla oppure era stato qualcun altro a farlo anche il fidanzato joy che aveva dato l'allarme che era proprietario della pistola che aveva ucciso natalie aveva un alibi di ferro e le indagini lo toccarono appena un mistero davvero intricato quello della morte di natalie bollinger dovettero passare tre settimane dal delitto prima che sprazzi di luce iniziassero ad illuminare la scena del crimine il 17 gennaio del 2018 la polizia ultimò le proprie attività di indagini informatica sul traffico telefonico e social di natalie per cercare quali contatti avesse avuto nei giorni precedenti la sua scomparsa e trovarono molti messaggi inviati a un numero che però non aveva salvato nel suo telefono risalivano tutti alla stessa data il giorno della sua scomparsa non erano stati individuati in precedenza perché cancellati ma si sa che a livello informatico nulla lo è mai davvero 111 messaggi tutti spariti nel nulla l'utenza relativa a questi misteriosi messaggi venne individuata come appartenente a joseph lopez non si sa molto di lui se non che fosse un 22enne che lavorava in un ristorante i suoi colleghi lo definirono come gentile molto tranquillo ma qualcuno sostiene di averlo visto vomitare in bagno il 30 di dicembre il giorno successivo al ritrovamento del cadavere di natalie quella mattina se ne andò dal lavoro prima del solito e sembrava piuttosto agitato in aggiunto a questo si prese anche alcuni giorni di ferie dopo aver cercato di tracciare la conversazione avuta tra joseph e natalie la polizia si presentò sul suo posto di lavoro l'8 di febbraio e fu lui a dire subito che sapeva il motivo della loro visita si trattava sicuramente di quella ragazza conosciuta su craiglist joseph venne portato in centrale e lì gli venne chiesto di raccontare la sua versione della storia il ragazzo disse che era solito frequentare craiglist un sito dove in pratica si può trovare di tutto tra chi cerca e chi offre e che stava frequentando la sezione donne che cercano uomini quando si imbatte in un messaggio piuttosto bizzarro nonché molto inquietante era la richiesta di una ragazza che voleva ingaggiare un sicario che la uccidesse non era uno scherzo un gioco non cercava di essere salvata voleva soltanto che qualcuno lo facesse per lei quella ragazza era natalie bollinger il messaggio era stato lasciato le 6 25 di quella mattina poco dopo che il fidanzato joy era uscito di casa per recarsi al lavoro ed è così che iniziò la conversazione tra natalie e joseph lui disse che dopo aver letto quel messaggio iniziò a parlare con lei perché pensava che avesse bisogno d'aiuto e visto che lui era una persona alla quale piaceva aiutare gli altri cercò di convincerla che quello che aveva scritto non avesse senso non riuscendo però a cavare un ragno dal buco decise che l'avrebbe incontrata così dopo che lei le aveva posto domande su come l'avrebbe fatto passò a prenderla e girarono in auto per un paio d'ore riferì di tutti i problemi che natalie aveva raccontato della sua depressione della sua infanzia difficile e del fatto che fosse dipendente dalle droghe la ragazza pensava veramente che lui avesse risposto all'annuncio per fare ciò che lei chiedeva ma alla fine era riuscito a farla desistere da quei propositi o almeno lo pensava e l'aveva riaccompagnata a casa fine della storia ora visto che i poliziotti non erano completamente fessi non diedero molta credibilità a questo suo racconto gli dissero tra l'altro che tracciando il suo telefono erano giunti alla conclusione che lui fosse stato sulla scena del crimine cosa piuttosto curiosa a sentire la sua versione che infatti joseph pensò bene di cambiare fornendone un'altra in realtà si era stato sulla scena del crimine ce l'aveva accompagnata lui però aveva soltanto assistito a natali che si toglieva la vita sparando di un colpo in testa aveva cercato di fermarla ma non c'era riuscito poi aveva preso la sua pistola e la borsa come regalo visto che rappresentavano una sorta di ricompensa per essere stato lì ma anche questa versione lasciava molto a desiderare diciamo così perché a meno che natali non fosse stata come carletto che si allunga 7 metri e 33 non avrebbe mai potuto spararsi da sola visto che l'autopsia rivelò che il colpo era partito dalla distanza e non a bruciapelo e così arriviamo alla terza e grazie al cielo ultima versione di joseph lopez in merito ai fatti di quel pomeriggio sì l'aveva uccisa lui aveva cercato di farle cambiare idea ma lei non aveva voluto e così lo aveva fatto la pistola effettivamente venne ritrovata nella sua auto tutto era coerente con quanto sembrava fosse avvenuto anche la presenza di eroina nel sangue di natali che aveva un passato da tossico dipendente come detto parecchi problemi risolti depressione ansia e diversi tentati suicidi alle spalle nonostante le diverse fandonie raccontate da joseph lopez prima di raccontare la parziale o totale verità l'origine del loro incontro quel messaggio di natali che cercava qualcuno che la uccidesse era vero quel post nonostante fosse stato cancellato era stato davvero inviato su craiglist e qui l'assurdo si aggiunge all'assurdo natali forse in preda ai suoi demoni lo aveva scritto e cancellato dopo appena due minuti eppure qualcuno alle 6 e 30 del mattino era riuscito a vederlo e a rispondere ma non una persona qualunque un ragazzo che poi si sarebbe scoperto aveva da sempre avuto la perversa fantasia di uccidere qualcuno joseph lopez due destini incredibilmente uniti a doppio filo in appena 120 secondi dopo la confessione e successivo arresto lopez non impiegò molto ad accettare un plea deal concordando una condanna per omicidio di secondo grado senza neppure andare a processo nel dicembre del 2018 joseph lopez venne condannato a 48 anni di carcere e 5 di libertà condizionale della quale potrà beneficiare attorno al 2066 il giudice li diede il massimo della pena prevista per quel tipo di accordo anche in virtù delle lamentere della famiglia di natali che si era detta sfavorevole a ogni tipo di mediazione comunque joseph lopez avrà circa 70 anni quando uscirà di prigione ammesso che sarà ancora in vita a quella data viene da chiedersi cosa sarebbe accaduto se non avesse letto quel messaggio forse natali avrebbe superato quel momento di sconforto forse no e sarebbe morta in altro modo fatto sta che ha trovato sulla sua strada un aspirante killer che con dozzine di messaggi l'ha probabilmente convinta a mettere in il suo proposito originale quello di farsi uccidere da un sicario e lasciarsi dietro ogni pena terrena incredibile davvero ma è andata proprio così una pacca sulle spalle a tutti voi cari amici in zona e ben ritrovati in questo antro scarsamente illuminato dove settimanalmente mi accomodo davanti al microfono per raccontarvi un caso di true crime avvenuto da qualche parte nel mondo spesso non troppo lontano da voi per chi non lo sapesse vi informo che ho anche un altro canale la zona morta dove invece che raccontare storie di true crime racconto storie scritte da me il genere lo potete immaginare ho anche scritto un romanzo che si intitola quel che resta di lei ora però basta con questi noiosi marchettoni e buttiamoci a pesce sul caso di oggi per l'occasione facciamo tappa a nashville tennessee anno 2020 il 12 marzo ancora prima dell'alba giunse una telefonata al 911 motivo denunciare uno strano ritrovamento avvenuto nell'area sud ovest di nashville zona nella quale vi erano edifici in costruzione sul bordo della strada parzialmente nascosta tra gli arbusti che fiancheggiavano la carreggiata un uomo vide un'auto abbandonata la posizione faceva pensare a un incidente l'uomo avvicinandosi vide che c'erano due persone all'interno dell'auto provo a chiamarle ma non ottenne risposta così decide di contattare i soccorsi ai quali riferì che qualcuno probabilmente era andato a sbattere contro un albero e non dava segni di vita polizia e paramedici arrivarono presto sul luogo ma ciò che ricostruirono fu qualcosa di diverso da un incidente stradale c'erano troppe cose strane per far pensare ad una cosa del genere all'interno dell'abitacolo vennero effettivamente ritrovate due persone un uomo e una donna ma si trovavano in una posizione molto particolare decisamente non compatibile con uno schianto in auto nonostante entrambi gli airbag si fossero attivati lui era davanti sul sedile del guidatore lei dietro ma entrambi avevano la testa a terra e i piedi in alto inoltre sembravano morti da diverse ore parve chiaro che fossero stati messi lì dentro a forza probabilmente già cadaveri qualcuno li aveva uccisi da qualche altra parte e poi li aveva abbandonati lì probabilmente chi aveva commesso quei delitti non voleva neppure simulare un incidente semplicemente aveva necessità di liberarsi dai corpi prima di scomparire nell'oscurità della notte i cadaveri vennero ben presto identificati si trattava di holly williams 33 anni e il suo fidanzato william lenway di anni 36 due persone la cui storia va raccontata prima di addentrarci nei fatti che portarono alla loro morte in quella notte di marzo di quattro anni fa lui william lenway non era propriamente un buon partito appena una settimana prima era stato arrestato per aver aggredito la sua fidanzata holly e non era neppure la prima volta in dicembre pochi mesi prima era stato arrestato per averle dato un pugno in faccia una persona violenta quindi e una relazione decisamente tossica quella che i due portavano avanti da diverso tempo non una novità nei casi di true crime solitamente finiscono con lui che uccide lei qualche volta il contrario in questa circostanza invece li abbiamo ritrovati entrambi morti all'interno di un'auto e vista la scena del crimine certamente non poteva trattarsi di un omicidio suicidio un fatto tragico quindi ma anche curioso l'autopsia determinò che i due erano stati entrambi freddati con due colpi di pistola uno al petto e uno alla testa c'era quindi qualcosa nelle loro vite che avrebbe dovuto essere indagata per permettere di arrivare alla verità sui loro omicidi holly e will come detto avevano una relazione molto particolare si erano lasciati ripresi in continuazione qualche anno prima degli eventi si erano trasferiti entrambi a nashville dove lavoravano lui come meccanico lei in un centro estetico anche se poi vedremo che questo non era il suo solo lavoro avevano tutti e due un passato non semplice soprattutto william che nove anni prima aveva perso la figlia a causa della leucemia non so se questo lo avesse reso violento lo fosse già prima ma tant'è holly nonostante continuasse a starci insieme aveva paura di lui tanto da installare diverse telecamere in casa forse come disincentivo a compiere atti scelerati fatto sta che nelle ultime immagini di loro due prima degli omicidi holly e william erano insieme non stavano litigando anzi le telecamere li immortalarono uscire tranquillamente di casa tutto questo prima di essere uccisi e poi ritrovati nell'auto a diversi chilometri dalla loro abitazione ma furono proprio quelle telecamere che olly aveva installato per altri motivi a fornire un'indicazione decisiva alla risoluzione del mistero sulla loro sorte si possono vedere infatti due uomini completamente vestiti di nero a girarsi all'esterno dell'abitazione non molto tempo prima che olly e william venissero uccisi ma chi erano e cosa ci facevano lì è a questo punto che la storia si complica decisamente entrano a far parte di essa altri quattro personaggi che in un modo o nell'altro sono stati protagonisti dei fatti di quella notte ora per spiegare il tutto bisogna fare un passo indietro e tornare al punto in cui vi ho detto che holly lavorava in un centro estetico ma che questo non era il suo solo lavoro quello principale era ben più remunerativo holly con lo pseudonimo di leila love faceva anche la escort un'attività che svolgeva da molti anni non era un segreto lo faceva apertamente aveva una pagina internet per pubblicizzare il prodotto e lo stesso william ne era al corrente apparentemente non aveva problemi a riguardo o sarebbe meglio dire che si era abituato all'idea perché probabilmente la cosa non gli andava molto a genio questo genere di prestazioni possono portare davvero molto denaro ma nello stesso tempo anche diversi problemi soprattutto se si incrociano le persone sbagliate la polizia cercò di identificare gli uomini che si erano avvicinati alla casa di holly attraverso le immagini ma non ci riuscirono così passarono all'analisi dei tabulati telefonici e c'era un numero nello specifico che di recente aveva contattato sia will che holly che leila visto che per la sua professione di escort aveva un numero dedicato si trattava però di un voice over un numero online con il quale possono essere effettuate delle chiamate nulla di particolarmente strano al giorno d'oggi lo usano in molti ma nello specifico questo genere di espedienti possono essere usati per nascondere l'identità del chiamante quando ci sono di mezzo affari roschi e questo appariva decisamente il caso non mi chiedete come ma attraverso delle analisi approfondite gli inquirenti riuscirono ad arrivare ad un indirizzo email jimmygreen34 at gmail.com e tramite questo arrivarono a un account pinger il cui nome utente era agent47 dopo altre complesse ricerche arrivarono finalmente al vero jimmygreen34 che si chiamava in realtà adam kerry un ex marine che viveva nella carolina del nord e lavorava nel settore della sicurezza un tipo un po particolare che qualche tempo prima era stato arrestato per aver finto di essere un poliziotto portando con sé un arsenale fatto di pistole ed esplosivi per questo si era fatto quattro mesi di carcere il suo aspetto corrispondeva con quello di una delle due persone che avevano fatto visita a holly quelli immortalati dalle telecamere quindi risultava abbastanza chiaro che un assassino potesse essere lui ma le cose si allargarono a macchia d'olio adam kerry era un mercenario ed era stato assunto per osservare e nel caso intimidire holly e william per motivi che vedremo a breve colui che l'aveva assoldato rispondeva al nome di brian brockway ed era anche lui un ex marine ed aveva anche fatto parte di programmi di protezione governativa era lui l'altro uomo immortalato dalle telecamere qui le cose diventano un po strane in effetti due ex marine due soggetti con un determinato background e specifiche competenze che pedinano e stalkerizzano un meccanico e una escort direi che risulta abbastanza chiaro che qualcos'altro bollisse in pentola ben presto però saltò fuori un terzo nome tale gilad peled anche lui un ex membro delle forze speciali che risideva in texas e lì riceveva report e informazioni da carrie e brockway in merito alla questione della quale tutti e tre si stavano prendendo cura e che riguardava holly e william a chi a questo punto penserà una sorta di complotto governativo con il coinvolgimento di cia fbi e compagnia vi dico subito nulla di tutto questo la storia era in realtà decisamente più semplice nonostante il calibro delle persone coinvolte non lo facesse pensare a questo punto devo introdurre un'altra persona nella sceneggiatura ma vi prometto che è l'ultima gilad peled come detto era stato nelle forze speciali in israele una volta terminata la vita militare aveva iniziato a lavorare come guardia del corpo per celebrità hollywood successivamente si era trasferito in texas e qui aveva fondato la spiriti security group un'agenzia privata per chi richiedesse servizi di protezione e in texas non erano molti a dire il vero il business non andava troppo bene ma la società di peled un cliente ce l'aveva si chiamava eric mound ed era il figlio di un noto gestore di rimesse di autoveicoli charles mound che però in quel periodo si occupava ormai solo della pubblicità era suo figlio eric a gestire l'intero business si rivolse ai servizi dell'aspertip security per sgombrare alcuni senza tetto che si erano accampati nelle sue proprietà eric mound era un ricco uomo d'affari con una moglie e due figli di cui uno il più grande studiava all'università di nashville nei primi mesi del 2020 decide di fargli visita e così partì per nashville dove passò un po' di tempo col figlio alloggiando in un lussuoso hotel della zona ma non potendo passare con lui tutto il tempo gli rimanevano ovviamente diverse ore libere durante le quali non sapeva cosa fare e così una sera navigando su internet indovinate un po' decise di chiamare una escort e credo che abbiate già capito quale fosse il nome di quella escort leila love all'anagrafe holly williams quando fece ritorno in texas però eric iniziò ad avere delle brutte sorprese continui messaggi da parte di leila nei quali gli venivano richiesti 25 mila dollari per tenere la bocca chiusa altrimenti avrebbe detto a tutti della sua scappatella in quell'hotel di nashville soprattutto a sua moglie e alla sua famiglia insomma visto che eric era una persona piuttosto conosciuta e affermata questo avrebbe potuto distruggere sia la sua famiglia che la sua carriera così eric che non gradiva affatto essere minacciato decise di contattare il suo amico e collaboratore gilead peled al quale si era già rivolto come detto per altre questioni gli chiese come si sarebbe comportato lui in questa situazione visto che probabilmente ne aveva viste di simili in passato e così fu lui a prendere in mano la questione contattò una sua vecchia conoscenza brian brockway che a sua volta coinvolse un altro ex militare adam carrie il tutto per scoprire chi ci fosse veramente dietro a quei messaggi ricattatori arrivarono quindi al vero nome della escort che era stata con eric holly williams ma la cosa curiosa fu che non era lei a inviare quelle richieste di pagamento il ricattatore era il suo compagno william langway che aveva hackerato in qualche modo il suo account o forse conosceva gli accessi e saputo che la donna si era incontrata con eric mound quella notte aveva deciso di sfruttare quella situazione oppure di farla pagare ad entrambi ho già detto che lui sapeva della professione particolare di holly ma chissà forse quell'ultimo incontro non gli era andato a genio come ho accennato all'inizio william era stato arrestato per aver aggredito holly la settimana precedente le loro morti non è da escludere che questa aggressione fosse legata proprio ai fatti di cui stiamo parlando comunque per farla breve brian brockway e adam carrey trovarono una soluzione non troppo complessa per chiudere la vicenda nel minor tempo possibile dissero che avrebbero potuto eliminare sia holly che william per 60.000 dollari e lo comunicarono a peled il quale lo comunicò a eric mound evidentemente qualcuno accettò e così torniamo ai fatti del 12 marzo 2020 ho gli e william che cadono in un'imboscata vengono uccisi appena fuori dall'abitazione di holly senza che nessun vicino si accorga di nulla poi i loro corpi vengono trasportati nel luogo del ritrovamento all'interno di un'auto poi abbandonata ai bordi della strada i tre amigos peled carrey e brockway vennero tutti arrestati lo stesso giorno per quanto riguarda eric mound si decide di attendere un po in quanto non era chiarissimo il grado del suo coinvolgimento il fatto cioè che avesse proprio commissionato due micidi oppure non fosse al corrente che i suoi collaboratori avrebbero agito in quel modo e magari avesse in mente soltanto di spaventare holly e william così la polizia fece fare una telefonata a gillard peled gli dissero che se collaborava ovviamente avrebbe avuto qualche beneficio durante il processo d'altronde in tennesi è in vigore la pena di morte ed essere sicuro di poterle evitare lo spinse a collaborare e durante questa telefonata derrick mound volta a comprendere il suo grado di coinvolgimento nella vicenda si scoprì che c'era dentro fino al collo anzi non si fece problemi a dire a peled che se fosse stato necessario avrebbe anche potuto eliminare gli altri due compari nel caso avessero creato problemi i problemi ovviamente li ebbe lui che forrestato immediatamente come detto gillard peled fece un accordo dichiarandosi colpevole e testimoniando contro eric e gli altri due le sentenze dovrebbero arrivare nel tardo 2024 ma l'ergastolo sembra inevitabile per loro e tutto sommato gli andrebbe anche bene considerando che in teoria potrebbero anche essere condannati a morte saluti sparsi a tutti voi curiosi amici in zona e bentornati in questo luogo scuro anche oggi per raccontarvi una delle brutte storie che vi piacciono tanto sono seduto al mio pc con il microfono acceso e pronto a fare il suo sporco lavoro un blu yeti per la precisione acquistato nel 2019 mi rendo conto che non troverete la cosa particolarmente interessante ma visto che non vi do informazioni su di me quantomeno vi dico qualcosa sulla mia attrezzatura se non siete iscritti al canale e passate in zona per la prima volta cliccate sul tasto di iscrizione in basso e unitevi alla comitiva che settimanalmente parte la scoperta di qualche tragico avvenimento accaduto da qualche parte nel mondo per il caso di oggi facciamo tappa nel regno unito maggio 2022 qui facciamo la conoscenza di ellis woods che da questo momento chiamerò alice per comodità 21 anni cresciuta a staffordshire con due fratelli e una famiglia come tante altre cioè con genitori separati passò la sua adolescenza di dividendo il suo tempo tra casa della madre e quella del padre da lì c'era una ragazza veramente brillante con un'intelligenza sopra la media a livello scolastico aveva un profitto davvero notevole che la portò ad attraversare ottimamente le diverse fasi dell'istruzione per lei sembrava tutto piuttosto semplice aveva una passione per gli animali e questo inizialmente la portò a pensare di diventare veterinaria ma la sua carriera scolastica prese un'altra piega terminate le superiori si iscrisse all'università di manchester e qui iniziò a studiare per ottenere una laura in filosofia teologia ed etica alla fine di questo racconto almeno il raggiungimento dell'ultima specializzazione risulterà alquanto ironico i suoi voti comunque erano ottimi e le venne offerto un master a cambridge insomma una ragazza davvero promettente ed un futuro radioso che sembrava lì a portata di mano alice woods era fidanzata con un ragazzo di 24 anni poco più grande di lei quindi di nome ryan watson i due si incontrarono per la prima volta durante il lockdown per i noti fatti di qualche anno fa e tra loro fu amore a prima vista ammesso che qualcuno ancora ci creda fatto sta che alice e ryan dopo appena qualche mese di frequentazione erano già ufficialmente fidanzati con una data per il matrimonio ancora da definire ma con la promessa di passare il resto delle loro vite insieme promessa che peraltro sarebbe stata in qualche modo mantenuta decisero di prendere una casa insieme e con l'aiuto dei propri genitori ne trovarono una che faceva il caso loro a cheshire e vi si trasferirono verso la fine del 2021 proprio in quel periodo ryan aveva iniziato a lavorare come aiutante presso la brain charity edway a sentire i suoi colleghi e superiori all'interno dell'istituto era un ragazzo con la testa sulle spalle molto amato dalle persone delle quali si circondava dal canto suo ryan aveva scelto quell'impiego perché trovava gratificante riuscire ad aiutare le persone in difficoltà nel maggio del 2022 ryan e altri suoi colleghi vennero invitati a una festa di compleanno di un membro dello staff che si tenne presso il victoria launch bar a dunley stock con trent per l'occasione il ragazzo chiese ad alice se volesse accompagnarlo alla festa e lei accettò così quella sera i due si vestirono per l'occasione e si recarono al party come anche le telecamere di servizio all'interno del locale immortalarono i due inizialmente sembrarono divertirsi come una normale coppia di una festa assieme a tutti gli altri partecipanti questa situazione però non durò a lungo e le cose cambiarono nel corso della serata ryan ovviamente interagge con molte persone durante il party parlò e si intrattenne con colleghi e amici e anche con diverse donne la cosa evidentemente non dovete fare molto piacere ad alice molte persone la videro rabbuiata e non particolarmente felice che il suo fidanzato stesse riservando attenzioni a tutta quella gente alcuni testimoni diranno poi di averla vista seduta e con lo sguardo fisso rivolto a ryan che parlava con altre persone in particolare con una certa tiffany con la quale sembrava esserci almeno a quanto avrebbe detto poi alice una particolare confidenza a un certo punto con la festa che volgeva al termine i due decisero di andarsene tornare a casa loro le telecamere li immortalarono mentre si dirigevano verso l'auto e poi uscire dal parcheggio da quelle immagini si riuscì anche a intravedere qualcosa che sarebbe divenuto più chiaro poco più tardi alice e ryan sembravano molto agitati come se stessero litigando o discutendo per qualcosa e possiamo immaginare cosa una volta arrivati a casa i due scesero dalla macchina e fu lì che è successo il fattaccio nonostante avesse un tasso alcolemico di due volte superiore al consentito alice si diresse verso la sua auto parcheggiata di fronte all'abitazione una ford fiesta e vi entrò ryan era lì nei paraggi la ragazza mise in moto e cercò di investirlo due volte sfiorandolo appena passarono alcuni secondi e alice si allontanò salvo poi tornare questa volta a una maggiore velocità e puntare ancora il suo fidanzato il terzo tentativo andò a buon fine e ryan venne colpito ma non fu tanto questo a provocare i maggiori danni caduto a terra il ragazzo rimase incastrato sotto l'auto e la sua fidanzata guidò per più di 100 metri in quelle condizioni prima di fermarsi ryan venne trascinato lungo tutto il tragitto subendo ovviamente delle gravissime ferite quando lice finalmente si fermò era chiaro che per lui fosse ormai troppo tardi la ragazza uscì dall'auto e si diresse verso la casa di uno dei vicini bussando disperatamente alla sua porta gli chiese di chiamare un'ambulanza perché pensava a parole sue di aver investito il suo fidanzato l'uomo con una calma olimpica chiamò i soccorsi descrivendo per quanto possibile la situazione e i motivi che avevano portato a quel tragico evento che alice gli aveva confusamente spiegato già durante la telefonata l'uomo avvertì il centralinista che ryan non aveva più polso quando la polizia arrivò trovò alice in stato confusionale e in lacrime con le mani sulla testa la ragazza venne arrestata per sospetto omicidio e gli agenti le chiesero di non dire nulla in quanto come si dice in questi casi tutto ciò che avrebbe detto sarebbe stato poi usato contro di lei al processo la ragazza comunque ripeteva una sola frase in continuazione va bene me lo merito nel frattempo i paramedici si occuparono del corpo di ryan ormai cadaver steso sulla strada alice venne accusata dell'omicidio del suo fidanzato e l'inizio del processo fu fissato per il 2023 il primo giorno di udienza alice si presentò in aula con una copia di meditazioni scritto dal filosofo nonché imperatore marco aurelio un testo dal quale forse avrebbe dovuto attingere prima nel corso del processo alice sostenne che quella notte era stato il suo ragazzo a litigare con lei perché geloso di alcuni suoi comportamenti durante la festa cosa peraltro apparentemente smentita da tutti i testimoni che invece videro lei abbastanza furiosa a causa della sua gelosia in particolare tiffany la ragazza con la quale ryan parlò di più disse che quella sera si era sentita osservata da alice che le poche volte che si era voltata nella sua direzione l'aveva sempre vista con gli occhi puntati e fissi verso di lei alice aveva bevuto abbastanza durante quella serata nello specifico due bicchieri di vino due di rum e un bicchiere di champagne come detto il suo tasso alcolico risultava di due volte superiore al consentito vennero ascoltati anche alcuni amici di alice i quali si dissero sorpresi che lei potesse aver avuto quegli episodi di gelosia in quanto in passato non ne aveva mai avuti almeno quanto ne sapevano non ricordavano neppure attacchi di rabbia o aggressività che potessero in qualche modo giustificare quanto accaduto quella notte uno dei suoi amici disse che era una ragazza calma e studiosa e che nessuno di loro si sarebbe mai potuto aspettare che commettesse un atto del genere alice gli ed è anche una descrizione dei fatti che avevano portato alla morte di ryan watson o almeno quella che era la sua versione aveva cercato di colpire il fidanzato con l'auto le prime due volte ma senza intenzione di fargli davvero male la terza lui era caduto ed era rimasto incastrato sotto l'auto ma lei non se ne era accorta se non dopo aver percorso alcune decine di metri purtroppo per lei le telecamere avevano immortalato una situazione piuttosto evidente e le sue giustificazioni non risultarono affatto credibili la giuria rigettò la richiesta di omicidio colposo e ritenne alice woods colpevole di omicidio volontario i genitori di ryan trovarono parziale sollievo da questa decisione dicendo che loro figlio aveva quantomeno avuto giustizia dissero che era un ragazzo che amava la sua famiglia i suoi amici e che non immaginavano quanto potesse essere spaventato durante i suoi ultimi momenti trascorsi sotto l'auto della persona che amava e che mai avrebbero pensato potesse rendersi colpevole di un atto del genere nel febbraio di quest'anno è stata emessa la sentenza definitiva alice woods è stata condannata all'ergastolo con un minimo di 18 anni da trascorrere in carcere questo vuol dire che se dovesse comportarsi bene e ammettere le sue responsabilità cosa che non ha fatto pienamente in tribunale il tempo trascorso in carcere potrebbe assestarsi al minimo della sentenza stessa 18 anni per l'appunto il giudice nel comunicare la sua decisione disse che per lei il carcere sarebbe stata una dura prova da affrontare ma poteva soltanto incolpare se stessa per quanto era accaduto quell'attacco di rabbia improvvisa verosimilmente mai avuta in passato magari repressa in altre circostanze aveva causato la morte del suo compagno di vita e la rovina della sua esistenza oltre a quella delle rispettive famiglie complice sicuramente l'assunzione di alcol che in questo caso purtroppo ha tolto i freni inibitori alla persona sbagliata ed anche per il caso di oggi è tutto cari amici in zona non so se l'indole di elice woods fosse davvero omicida pronta a scatenare la sua incredibile furia sul suo fidanzato oppure se le cose siano andate davvero oltre quelle che erano le sue reali intenzioni anche se provare a investire o tre volte non depone di certo per questa seconda ipotesi probabilmente l'eccesso di alcol ha contribuito a far venire fuori i suoi veri istinti e la sua natura che difficilmente può essere considerata compatibile con l'apparenza della ragazza calma studiosa e molto intelligente avrà tutto il tempo per elaborare quanto accaduto dietro le sbarre magari assumendosi le sue responsabilità e ammettendo tutte le colpe seppur in ritardo un saluto a voi bella gente in zona e bentornati a casa anche oggi come ogni mercoledì o giù di lì sono pronto a raccontarvi una storia di morte e follia che si sa spesso si intrecciano ed è da questo incrocio che nascono video come questo se non siete iscritti al canale vi invito a farlo cliccando sul tasto di iscrizione e sulla campanella delle notifiche da queste parti settimanalmente vengono raccontati i casi di true crime più assurdi e sconvolgenti avvenuti in italia e nel mondo per la storia di oggi facciamo tappa nel regno unito maggio del 2012 anna windsor era una ragazza di 17 anni nata e cresciuta a birkinhead un'infanzia non particolarmente tranquilla la sua infatti sin da piccola le era stato diagnosticato un deficit e disordini per attivo dell'attenzione noto come ADHD questo ovviamente le provocò diversi problemi a scuola e nella gestione delle tipiche attività di apprendimento tuttavia nonostante questi problemi anna era una ragazza piuttosto popolare una di quelle persone a detta di sua sorella che riuscirebbero a fare amicizia con chiunque le piaceva la danza e stava studiando proprio in quel settore sperando un giorno di poter diventare un insegnante nel febbraio del 2012 la ragazza viveva in una struttura di vita le persone senza tetto il motivo per il quale ci fosse finita non è chiaro ma risulta abbastanza ovvio che in quel periodo stava attraversando una situazione particolarmente difficile in merito alla sua vita privata anna aveva un fidanzato una cosa del genere il suo nome era adam lewis e aveva 18 anni nato a morton anche lui come anna aveva un disturbo dell'attenzione purtroppo però questo era uno dei problemi minori adam aveva un quotiente di intelligenza molto basso difficoltà nell'apprendimento e disordini della personalità non era mai stato accettato dalla sua famiglia e a scuola oltre a grosse difficoltà nelle classiche attività non riusciva a legare con gli altri ragazzi e sembrava non avere neppure interesse a farlo non mancano episodi di esplosioni di rabbia e violenza nel suo curriculum scolastico all'età di 9 anni i suoi genitori ne persero la custodia non che la cosa li rendesse particolarmente disperati a quanto pare adam fu affidato ai nonni che a differenza dei genitori provarono a fare quanto nelle proprie possibilità per aiutare il ragazzo cercando modi per guarire o alleviare i vari traumi ai quali il giovane era stato sottoposto nella sua breve esistenza ma ormai era evidentemente troppo tardi e la condotta di adam non migliorò era tremendamente impulsivo e i suoi comportamenti non erano compatibili con un'educazione e una scuola normale doveva chiaramente essere affidato a qualche istituto specializzato nel trattamento delle problematiche mentali all'età di 11 anni sviluppò una particolare passione per la piromania dando fuoco a diversi oggetti e facendosi spesso del male in aggiunta a questo cominciò a bere e ad assumere alte sostanze illegali è a questo punto della sua vita che adam venne trasferito in una scuola specializzata nell'istruzione e nella gestione di ragazzini problematici ed è proprio qui che incontrò anna windsor la relazione tra i due iniziò qualche anno più tardi attorno al 2011 quando adam aveva 18 anni ma l'età mentale di un undicenne non si sa molto di come vivessero la loro relazione se non che fosse decisamente turbolenta i due infatti si erano lasciati ripresi diverse volte ma i comportamenti di adam erano destinati a peggiorare sul finire del 2011 il ragazzo fece irruzione nell'abitazione dell'ex fidanzato di sua sorella dal quale rubò alcuni oggetti non fu di certo la cosa peggiore perché prima di andarsene pensò bene di appiccare un paio di incendi all'interno dell'appartamento non soltanto provocandone la distruzione ma anche mettendo in pericolo la vita dei suoi vicini di casa per fortuna non vi furono danni se non a cose gli incendi vennero domati ma adam sapeva che non sarebbe passato molto tempo prima che la polizia scoprisse chi si era reso responsabile di quegli atti così il ragazzo decide di fuggire nello specifico si accampò in un'area boschiva fuori città portando con sé tutto il necessario per sopravvivere lì non si sa bene per quanto tempo dopo essersi accampato l'unica persona che chiamò fu anna chiedendole di andare da lui e fornendo le indicazioni per arrivare nel luogo in cui si era nascosto in quella chiamata le disse anche quello che aveva fatto sia il furto che gli incendi la ragazza rimase particolarmente scioccata da quella confessione e si recò la polizia che nel frattempo stava già cercando adam anna riferì quanto il ragazzo le aveva detto era il 14 maggio del 2012 probabilmente però non disse loro dove si nascondeva gli agenti lasciarono un biglietto ad anna chiedendole di contattarli se avesse avuto altre informazioni e suggerendole comunque di stare lontana da adam che era un individuo molto pericoloso ma il 16 maggio forse raggiunta da un'altra chiamata di adam decise di andare da lui nel luogo in cui si era nascosto ciò che accade da quel momento non è sicuro al 100 per cento diciamo che questa è la ricostruzione che fece la polizia successivamente ai fatti adam deve aver scoperto che anna era stata la polizia per informare gli agenti dei crimini da lui commessi il biglietto che le era stato consegnato venne ritrovato nell'area dove il ragazzo si era nascosto stracciato in diversi pezzi dopo questa scoperta probabilmente adam aveva avuto un attacco di rabbia uno di quelli scattidiera che non erano nuovi per lui ma questo fu davvero sconvolgente i fatti che seguono sono stati ricostruiti ma non si sa se siano avvenuti necessariamente in quest'ordine anna venne picchiata e legata a un la sua bocca fu tappata con del nastro adesivo e venne spogliata dopo aver abusato di lei adam usò anche un oggetto affilato che le provocò delle ferite interne poi con il coltello che aveva con sé le inflisse ferite nelle parti intime e sul corpo le conficò quello stesso coltello nel linguine tirandolo giù fino al ginocchio questo causò un enorme perdita di sangue anna probabilmente rimase in vita fino all'ultima di queste torture poi adam le strinse una corda al collo e la strangolò non risulta chiaro se anna morì per la perdita di sangue o per asfissia la sua agonia comunque deve essere durata per un periodo di tempo considerevole a cose fatte adam la slegò e ricoprì il suo cadavere con foglie e arbusti la mattina seguente una volta sveglio il ragazzo vide un uomo camminare nella zona dove si era accampato e lo fermò per porgli una domanda piuttosto inquietante per un povero uomo che voleva fare solo una bella passeggiata nel bosco gli chiese qual era la pena prevista per una persona della sua età nel caso avesse commesso un omicidio il 18 maggio due giorni dopo il delitto anna venne dichiarata scomparsa dalla polizia che ovviamente ancora non conosceva il suo destino lo stesso giorno adam venne arrestato lo trovarono addormentato su una panchina di una stazione ferroviaria ai piedi aveva le scarpe rubate all'ex fidanzato della sorella sporche di sangue in quel momento però la scomparsa di anna e quel dettaglio non vennero collegati così il ragazzo fu rilasciato in attesa di giudizio non rimase fuori per molto comunque decise infatti di confidare il suo orribile crimine proprio alla sorella la quale rimase ovviamente scioccata e avvertì immediatamente i suoi nonni che a loro volta non esitarono a contattare la polizia adam venne arrestato di nuovo questa volta con l'accusa di omicidio gli inquirenti gli chiesero di confessare tutto ciò che aveva detto alla sorella e soprattutto di riferire dove si trovasse il cadavere di anna la ragazza venne ritrovata il giorno seguente 19 maggio le sue condizioni erano talmente orribili da lasciare sconvolti anche gli agenti che ne rinvenirono il corpo sotto gli arbusti con i quali adam l'aveva ricoperto la notizia si sparse ben presto in città e tutti rimasero sconvolti nel conoscere quanto era accaduto alla ragazza i suoi funerali si sarebbero svolti il mese successivo e avrebbero partecipato più di 200 persone quando adam venne interrogato sui motivi che lo avevano spinto a compiere quell'atroce delitto il ragazzo cercò di giustificarsi dicendo che anna lo aveva schiaffeggiato e lui aveva perso la testa cercò in un certo senso di autoassolversi sostenendo una sorta di strampalata autodifesa quando ovviamente gli chiesero perché l'avesse torturata per un periodo di tempo così lungo non seppe dare una risposta l'unica che riuscirono ad avere fu quella derivante dal ritrovamento dei pezzi del biglietto che la polizia aveva consegnato ad anna adam era venuto a sapere che la ragazza aveva contattato la polizia e così aveva deciso di fargliela pagare nel peggiore modo possibile quando il processo iniziò ad adam venne offerta la possibilità di chiedere un plea deal lui decise di dichiararsi non colpevole di omicidio volontario ma di omicidio preterintenzionale salvo però cambiare idea sul consiglio degli avvocati i fatti erano davvero incompatibili con una non intenzione di uccidere ovviamente c'era in ballo la questione del suo equilibrio mentale adam fu sottoposto a una perizia che determinò i diversi tratti delle patologie delle quali soffriva difficoltà di apprendimento disturbi della personalità totale non curanza per le emozioni delle altre persone sulla ricostruzione degli eventi non venne fatta piena luce neppure al processo il ragazzo disse di aver avuto un blackout e di non ricordare nulla di quanto accaduto anche se in molti non credettero a questa versione comunque visto che c'era stato un plea deal nel quale si era dichiarato colpevole non dovete essere tenuto un vero e proprio processo così almeno i genitori di anna si risparmiarono giorni di ulteriore sofferenza nei quali magari dover vedere le fotografie del corpo di anna ridotto in quello stato e dover ripercorrere gli ultimi terribili momenti di vita della propria figlia le parole del giudice alla fine del procedimento furono queste adam lewis il tuo è stato un prolungato spietato e terribile crimine che ha provocato incredibili pene ad anna windsor prima della sua morte non hai fornito alcuna spiegazione per ciò che hai fatto hai detto che ti ha colpito ma questo non può spiegare neppure in minima parte quello che le hai fatto e le sofferenze alle quali l'hai sottoposta soltanto tu sai cosa hai fatto ad anna ed in quale ordine poi il giudice riepilogò tutte le torture inflitte alla ragazza che non vale la pena ripetere le ho già accennato in precedenza durante la lettura della sentenza adam non mostrò alcun rimorso nella minima emozione sembrò assistere ad una lezione scolastica neppure troppo interessante adam lewis venne condannato all'ergastolo con un minimo periodo di detenzione di 22 anni che possono in effetti sembrare pochi per quello che ha fatto tuttavia come spiegato dal giudice come solitamente funzionano queste sentenze al termine dei 22 anni il rilascio non sarà automatico ma verrà deciso da una commissione e una volta eventualmente fuori dal carcere la sentenza a vita rimarrà comunque come una spada di damoclea adam dovrà rispettare le condizioni stabilite per la sua eventuale liberazione e se dovesse commettere altri crimini di qualunque natura tornerà in prigione a scontare il suo ergastolo fino a nuovo ordine procedure piuttosto intricate in effetti direi che per non complicarsi troppo la vita sarebbe meglio buttare via la chiave credo che nessuno avrebbe nulla da ridire e per il sanguinoso caso di oggi è tutto cari amici in zona come al solito vi ringrazio per avermi seguito fino alla conclusione del video e vi do appuntamento ai prossimi casi sul canale nel frattempo piantate le vostre tende ed accampatevi in zona non vorrei mai che andando e venendo smarriste la strada alla prossima